Trattiene il fiato Leoganeo, parte Chiricò, il tiro alla rete! Chiricò porta in vantaggio il Padova al 27esimo della ripresa, gol di Cosimo Chiricò, Padova 1, Gian Erminio 0. Undicesima rete di Chiricò che va sotto la tribuna a festeggiare. Il Padova che si porta in vantaggio in una partita difficilissima al 28esimo, gol di Chiricò che è andato a raccogliere l'applauso. Intanto Dezzi parla con il direttore di gara.